Apparentemente la scienza è in contraddizione. Ci sono i clinici che dicono noi vediamo meno casi gravi, noi vediamo le terapie intensive svuotarsi, noi vediamo meno ricoveri e dall'altra parte ci sono i virologi che invece dicono ancora non c'è nessuna evidenza del fatto che il virus sia diventato buono. Ma sono in contrasto queste affermazioni? No, non sono in contrasto e vi spiego il perché. Prima di tutto quando qualcosa cambia, nel senso che o appare un virus nuovo o un virus esistente diventa più buono, i primi ad accorgersene sono ovviamente i clinici, quelli che stanno in pronto soccorso, anzi. Nel 1980 dei medici si accorsero che c'era qualcosa che non andava nella comunità omosessuale di Los Angeles e di New York, due medici diversi. Non erano virologi, erano medici che lavoravano sul campo e soltanto tre anni dopo si riuscì a isolare il virus e a trovare il modo di fare la diagnosi di laboratorio di quella terribile malattia. Quindi non è qualcosa che ci deve stupire questo. Quelli che si sono accorti di una nuova polmonite non sono stati i virologi, anzi uno di quelli che se ne accorse in Cina e diede l'allarme era un oculista addirittura, quello che fu poi praticamente incarcerato perché aveva mandato un tweet ai suoi amici. Dunque è normale che ci possano essere delle differenze nei tempi con i quali la scienza si accorge di qualcosa che è pratico. E quali potrebbero essere però le spiegazioni di questa diminuzione dei casi gravi? Potrebbe essere per esempio dovuta al virus che è diventato più buono. Questo però dovremmo confermarlo nel tempo analizzando il virus e rendendoci conto con esperimenti molto complicati che questo virus si è attenuato. Un altro motivo potrebbe essere dovuto al fatto che il caldo, l'attenzione, le mascherine portano a un'infezione con una minore carica virale. In numerose infezioni virali chi si infetta con più virus ha una malattia più grave. Per esempio nella varicella il primo che si infetta della famiglia che magari ha contratto la malattia in giro ha una forma più lieve. È frequente che il fratellino, la sorellina che contraggono la malattia all'interno dell'abitazione abbiano una forma più grave. Però attenzione perché potrebbe esserci anche un'altra spiegazione. Il caldo, il caldo che impedisce la trasmissione, il caldo che attenua la trasmissione perché si sta più all'aperto e all'aperto siamo certi che i virus si trasmettono molto di meno. Tutti questi fattori possono contribuire da soli o insieme a mostrare una infezione meno grave. Però attenti perché c'è anche un'altra spiegazione a tutto questo. La minore gravità potrebbe essere dovuto al fatto che i casi sono molti di meno e che quindi noi vediamo meno casi arrivare in ospedale perché ci sono meno infettati e grazie ai due mesi di enormi sacrifici che abbiamo fatto che hanno spento un'epidemia terribile. Per cui è vero che ci sono degli elementi che ci portano ad essere ottimisti però allo stesso tempo non dobbiamo abbassare la guardia perché il virus potrebbe non essersi attenuato e quindi nelle condizioni sbagliate potrebbe dare luogo a dei nuovi focolai che potrebbero poi di nuovo causare grossi guai. Quindi c'è motivo di essere ottimisti, c'è motivo di guardare il futuro con una certa speranza però mentre speriamo il meglio prepariamoci anche a un'eventualità che può essere diciamo negativa. Siamo nelle condizioni in cui in una giornata di aprile vediamo il sole ma dobbiamo uscire portando con noi l'ombrello.